salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video finalmente dopo tre mesi di utilizzo molto molto intenso è arrivato il momento di tirare le conclusioni sul dji mavi care si perché dopo tre mesi in cui l'ho utilizzato molto intensamente infatti chi mi segue avrà visto tutti i miei video che ho pubblicato in cui l'ho provato in varie situazioni montagna lago freddo caldo un po di tutto varie distanze vento non vento l'unica cosa che mi manca il mare ma per quello dobbiamo aspettare fino a luglio in cui allora lo metteremo alla prova in 15 giorni di mare ma adesso è arrivato il momento di tirare le conclusioni di un prodotto che ormai ha fatto le sue ore di utilizzo quindi è testato e quindi fare una recensione e conclusioni più precise perché ok le recensioni i test che si fanno appena un prodotto esce in cui si va in un campo lo si prova ma massimo va a 100 metri in altezza che ne so a 30 metri però quello si può fare con qualsiasi drone voglio dire un prodotto di questo livello le conclusioni vanno tirate mettendolo alla prova in quello che in realtà è il suo ambiente cioè situazioni abbastanza estreme quindi adesso è arrivato il momento di parlare dei pro e dei contro del nostro mavicare quindi partiamo dalle dimensioni che sono ovviamente uno dei suoi punti forti quando è chiuso praticamente è poco più grande o praticamente è grande come un iphone 8 plus quindi le dimensioni sono uguale di un iphone 8 plus quindi sulle dimensioni sicuramente non ha uguali per le sue potenzialità ovviamente il suo peso che 430 grammi quindi anche il peso è bassissimo quindi dal punto di vista delle dimensioni sicuramente un prodotto più che ottimo perché sicuramente non c'è sul mercato niente di queste dimensioni e di questo peso che fa quello che fa questo mavicare e soprattutto che lo fa bene come lo fa questo e non le cose che troviamo scritte sulle scatole o sulle pubblicità di alcuni prodotti ma poi messa in pratica non è che le rispecchino proprio a pieno anzi tutt'altro sempre parlando di dimensioni il radiocomando che è il classico radiocomando che poi troviamo anche per lo spark o per il mavic pro a livello di dimensioni a parte che il mavic pro c'è anche un display questo no però diciamo le dimensioni rispecchiano quelle delle degli altri prodotti dji mavic e spark un altro punto forte che ha ovviamente questo radiocomando rispetto agli altri due il fatto che si possono togliere le closcettine quindi diventa molto meno ingombrante se lo si mette in tasca o in uno zaino e non si rischia di danneggiare il radiocomando le closcettine si possono inserire qua all'interno quindi non occupano spazio e si possono sempre avere con sé perché sono attaccate al radiocomando quindi dimensioni e peso tutto ottimo adesso parliamo della fotocamera un altro punto forte ovviamente dove dji non sbaglia un colpo è la fotocamera fotocamera da 4k 30 frame fps o da full hd a 60 frame fps quindi la fotocamera è spettacolare secondo me anche i colori ottimi contro luce o meno comunque tende sempre ad avere dei colori direi ottimi se non perfetti il gimbal il gimbal è eccezionale come anche gli altri prodotti ovviamente dji stabilizzato su tre assi tutte cose che già si sanno però funziona da dio chi mi segue su youtube ha visto tutti i miei filmatici pubblicato e ha visto come sono le riprese sono tutte riprese fatte senza avere modificato nulla a livello di post produzione a parte taglia e cucci qualche aumento della velocità nelle parti lunghe per il resto non è stato toccato niente nel colore nella luminosità niente non è stato tentato di modificare niente perché a me piace avere diciamo se è nuvolo vedere grigio se c'è il sole vedere i colori belli vedere tutto più luminoso cioè quello che i miei occhi vedono quando io vado a fare volare questo drone è quello che poi voglio vedere nel video che vado a pubblicare ovviamente se devo fare un video per una pubblicità o per un matrimonio ovvio che uno poi va a ritoccare perché quelle sono cose diciamo create però per chi deve come me tenere dei ricordi di post in cui è andato mi piace avere i colori reali che vedo anch'io quindi non vado a ritoccare quasi mai niente e questo mavic li riproduce secondo me perfettamente mi piacciono un sacco come riproduce e il gimbal è impeccabile quindi fotocamera e gimbal eccezionali ok quindi dopo aver parlato della fotocamera passiamo una cosa che invece a me non piace piacerà praticamente a nessuno il rumore secondo me è molto rumoroso molto più rumoroso del mavic pro questo è dovuto al fatto che le eliche vedete vanno sopra diciamo alla struttura del mavic e cioè alla carrozzeria del mavic e quindi creano una turbolenza che fa aumentare questo rumore quindi si sente questo rumore più amplificato rispetto al mavic pro per questo discorso che le eliche creano una turbolenza sul la struttura del mavic ovviamente essendo così piccolo avendo i bracci così corti le eliche ci vanno a finire sopra e si crea questo rumore molto forte soprattutto secondo me l'effetto è anche amplificato dal fatto che essendo così piccolo sembra che fa ancora più rumore nel senso che se uno sente un rumore forte su un oggetto grosso da meno fastidio forse perché l'occhio e l'orecchio vedono questa cosa grossa che fa tanto rumore mentre questo vederlo piccolo e fare tanto rumore dall'idea di fare ancora più rumore di quello che fa comunque ne fa tanto quindi una cosa non piacevole perché comunque si sente tanto questo mavic air adesso invece parliamo delle batterie le batterie vengono date da dj ai a 20 minuti non è vero nel senso che sì probabilmente 20 minuti si sta in aria fino all'ultimo secondo se non c'è un filo di vento dipende come lo si utilizza magari ci arriva anche non lo so non ci sono mai arrivato io e secondo me sono intorno ai 16 17 minuti circa poi ovvio il vento fa tanto e comunque fa tanto un po tutto l'utilizzo che se ne fa in quel momento comunque secondo me siamo sui 16 17 minuti però vabbè io ne ho due quella che avevo nella confezione poi ne ho comprato un'altra quindi con due batterie e poi mi sono preso un power bank che posso utilizzare sia per caricare le batterie del mavic perché ha la presa ovviamente classica della corrente quindi attacco l'alimentatore delle batterie del mavic e le ricarico e lo posso utilizzare anche per ricaricare qualsiasi altro mio dispositivo con nella presa usb eccetera quindi due batterie più questo io non ho problemi però uno può comparse anche tre batterie o meno comunque le batterie diciamo non solo il suo punto fortissimo secondo me se le paragoniamo per quelle di un mavic però c'è tanta differenza secondo me c'è quasi un dieci minuti di differenza adesso andiamo a parlare dei sensori e di tutto quello che è il suo autocontrollo diciamo quindi ai sensori dietro ai sensori davanti quindi gli ostacoli vengono visti praticamente senza problemi da tutte le parti ovviamente non ce li ha da parte però quali sia quelli davanti che quelli dietro funzionano benissimo ce li ha sotto e anche quelli funzionano benissimo ovviamente c'è il gps che funziona da dio nel senso che rileva i satelliti in pochissimo tempo quindi raggiungiamo i nostri 8 9 satelliti che sono diciamo quelli minimo per avere la sicurezza nel volo che poi in un attimo diventano 13 14 o addirittura anche 15 dipende da dove siamo quindi i satelliti vengono subito agganciati quindi bisogna aspettare pochissimi secondi e lui è pronto per essere utilizzato in sicurezza parliamo della stabilità di volo eccezionale anche col vento a 30 km all'ora è stabilissimo se pensate che ci ho messo sopra una lg cam 360 e c'è un mio video in cui si vede ce l'ho montata sopra uno non ne ha risentito a livello di peso cioè lui volava tranquillamente è vero che questa cam è leggerissima è circa 80 grammi però lui ne pesa 4 30 quindi voglio dire su di lui è un bel peso comunque rimaneva stabilissimo e soprattutto impressionante vedere come le immagini di questa cam 360 erano ferme cioè vuol dire che lui quando è nell'aria e vola è di uno stabile perché qua è vero c'è il gimbal e quindi l'immagine rimane ferma quindi si ha sempre l'idea che l'immagine sia stabile però in realtà quando siamo a una certa altezza e non lo vediamo più non vediamo di quanto sia stabile ma questa non è stabilizzata così tanto ha una stabilizzazione minima ed elettronica quindi averla messa su come peso e vedere il video di questa cam che rimane fermissimo vuol dire che questo drone quando è in aria è di una stabilità esagerata anche quando è altezze molto elevate poi tutte le funzioni che ha a livello di effetti video cioè nel senso in cui lui crea lui il video con voli particolari o meno l'effetto boomerang l'effetto asteroide funzionano da dio sono comodissimi le funzioni con le gesture cioè guidarlo con le mani funziona benissimo i sensori che schivano gli ostacoli quando li incontrano cioè si sposta cioè lui va vicino all'ostacolo poi si sposta funzionano benissimo cioè tutto quello che viene dichiarato DJI di questo Mavic Air lui lo fa e lo fa bene adesso andiamo a parlare di un argomento delicato cioè la connessione tra Mavic Air e radiocomando questo ha fatto parlare molto quando questo Mavic Air è uscito se ne parla tuttora perché DJI ha deciso di utilizzare la connessione wifi classica cioè a 2,4 GHz o a 5,8 GHz e non usare OQ Sync cioè il sistema che usa col Mavic Pro che è nettamente migliore ovviamente ma ha usato diciamo quella che è stata utilizzata sullo Spark un po' migliorata sembrerebbe però è quella allora è vero che DJI ha deciso di usare questa cosa del wifi classico su questo Mavic Air però è anche vero che chi compra un Mavic Air in Europa lo utilizza e si accorge che comunque non raggiunge grandi distanze il segnale video ogni tanto non è perfetto lagga o via dicendo però se invece la confezione l'apre un utente che ne so negli Stati Uniti quindi questo problema già è molto più attenuato anzi praticamente quasi non c'è perché come ormai sapete tutti qua in Europa il wifi è in modalità CE nel resto del mondo o quasi è in modalità FCC però questa non è colpa di DJI sono colpe dovute alle leggi che in Europa sono in un modo nel resto del mondo o quasi in un altro cioè qua dobbiamo usare frequenze sia 2,4 GHz ma frequenze molto più deboli mentre in America o in altri Stati quindi in FCC si usano sempre 2,4 GHz come quelle usate qua da noi ma sono molto più forti le frequenze e lì sono ammesse e sono regolari ovviamente ormai tutti sapete che anche qua facendo un trucchetto semplicissimo di cui se volete c'è il video che vi lascio sopra il link per andare a guardare per portarlo in FCC anche qua da noi e in FCC non è male cioè diventa già una connessione molto molto valida cioè abbiamo comunque un drone che può arrivare anche a 1 km, 2 km, 3 km di distanza in altezza 500 metri tranquillamente e avere sempre un'immagine video decente ovviamente poi dipende dove si utilizza dalla pulizia comunque del wifi che c'è nell'aria e via dicendo questo poi vale un po' per tutto però rispetto diciamo alla modalità CE classica è nettamente meglio quindi se qua non ci fosse la regolamentazione CE ma ci fosse la regolamentazione FCC chi acquistava questo Mavic? poi non si faceva tante storie se non aveva l'OQSync come il Mavic Pro il problema è venuto col fatto che siamo in Europa e c'è questo problema però non è tutta colpa di DJI cioè queste sono leggi di questi stati e non colpa di DJI ovviamente anche perché una cosa che mi sono chiesto io l'OQSync fa andare il Mavic Pro supponiamo anche a 6-7 km di distanza in altezza che ne so 1 km e la connessione rimane ottima ok però quello c'è una batteria che dura 26 minuti cioè voi avreste fatto andare un Mavic Air con la batteria che dura 16 minuti a 6 km di distanza cioè è anche vero che questi km su un drone così piccolo con una batteria che comunque non dura 25-26 minuti io tipo non lo so se l'avrei fatto andare a 5-6 km tolto il fatto che il drone deve essere sempre sotto l'occhio tutte queste cose che tutti sappiamo ma proprio diciamo a livello ipotetico l'avreste fatto andare a 5-6 km di distanza magari con il vento o meno e poi ci devi tornare anche indietro con una batteria che dura come quella di un Mavic Air non aveva secondo me tutto questo senso quindi secondo me la soluzione ideale è Mavic Air FCC questo secondo me è l'ideale io ho questa opinione sulla trasmissione Wi-Fi che è stata messa su Mavic Air ultima cosa di cui volevo parlarvi è il design secondo me spettacolare perché è curato anche nel design nella forma cioè mi piace tantissimo le grigliette qua che raffreddano eccezionali nella forma i materiali non sto neanche a dirveli perché comunque è un prodotto DJI quindi materiali ottimi plastiche e tutto sono spettacolari quindi conclusioni ragazzi io l'ho comprato lo ricomprerei secondo me è ottimo bisogna solo avere il coraggio di osare un po' di più va portato in FCC secondo me perché sennò è sprecato perché comunque è un prodotto che costa tanto e in CE è sprecato quindi va portato in FCC anche se non solo per andare a distanze assurde ma anche solo per avere un segnale più forte più sicuro e un ritorno video nello smartphone più preciso senza che laghi o meno e comunque un segnale più forte che dà più sicurezza nel volo quindi ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto spero che chi aveva dei dubbi se comprare o meno il Mavic Air io glieli ho un po' chiariti quindi come al solito ragazzi lasciatemi un grosso pollice su iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao